Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, Mattia Perin è un nuovo giocatore della Juve, ufficiale e un colpaccio a mio avviso della Juve, un ragazzo che mi è sempre piaciuto e ho sempre considerato uno dei migliori talenti italiani, tolto Donnarumma che era irraggiungibile a livello economico, credo che di quelli papabili ci sia stato solo Perin in circolazione di un certo livello, consideriamo anche che Donnarumma probabilmente per l'altezza che ha non è tecnico come tecnico Perin, ovviamente per contro Perin non riesce a raggiungere dei palloni che Donnarumma riesce a raggiungere, sono due portieri diversi, ma credo che Perin possa tranquillamente diventare non dico l'erede di Buffon, ma sicuramente potrà fare benissimo nella Juve perché è un giocatore sicuramente importante, sicuramente importante, un colpaccio, il primo colpo ufficiale della Juve dopo il riscatto di D'Agras Costa è arrivato questa conferma dell'acquisto di Mattia Perin ecco di questo ripeto sono veramente contento perché mi piaceva già il Genoa, io ho visto fare delle parate importanti, chissà senza gli infortuni dove sarebbe potuto arrivare Perin perché credo che sia stato molto penalizzato da quello, detto questo adesso lo vedremo quest'anno farà staffetta con Szczesny e attenzione perché il polacco dovrà darci dentro perché Perin scalpita molto, quindi attenzione perché Mattia Perin potrebbe anche prendergli il posto perché è un giocatore davvero forte, umile, nazionale italiano, quindi ne ha veramente tutti, così come dovrà impegnarsi Donnarumma perché se dovesse giocare non al 100% Perin potrebbe anche scalzargli il posto in nazionale, quindi attenzione perché Perin è una mina vagante secondo me la Juve ha fatto un acquisto veramente importante, soprattutto per le cifre, cioè veramente una cifra direi quasi agevole in confronto a quelle che ci sono in giro, ecco, adesso mi viene in mente le altre squadre che volevano Perin dovranno per comprare un altro portiere svenarsi per prendere un leno o qualcun altro, ecco, diciamo che la Juve ha fatto un gran colpo per lei e per toglierle anche agli altri, ha messo un malaghetto da pelare alle altre squadre soprattutto a Napoli perché adesso avrà bisogno di spendere 30-40 milioni per leno che secondo me non è forte quanto Perin, quindi vedremo, comunque benvenuto alla Juve, Mattia Perin e io vi saluto e vedo appuntamento con i prossimi video, ciao!